Fino agli anni 90 del secolo scorso il colombaccio era considerato nel nostro paese una specie categoricamente migratoria. Il fatto che intere colonie di questi maestosi columbidi si siano insediate stabilmente nella nostra penisola costituisce una delle più gradite novità per gli appassionati della caccia ai migratori. Novità per novità, la proverbiale intraprendenza dei cacciatori italiani ha apportato una nuovissima tecnica di adescamento a questi selvatici, la caccia con le aste. Siamo in compagnia di Vittorio e Riccardo e ci troviamo in Toscana, sulla costa tirrenica, alla diretta periferia di un tipico bosco mediterraneo dove i nostri amici, in questo giorno di silenzio venatorio, a scopo esclusivamente dimostrativo, vi illustreranno le fasi salienti dell'annunciata novità tecnica di caccia al colombaccio. I nostri filmati sono destinati a cacciatori che hanno chiare nozioni di caccia e non ci dilungheremo oltre il necessario per chiarire le modalità basilari di un'attesa con le aste, in quanto il filmato stesso ci pare di ineccepibile eloquenza. Mentre le immagini scorrono avanti i vostri occhi, ci addentreremo brevemente sui fondamenti di questa tecnica venatoria, quali ad esempio le strategie per la scelta dei luoghi in cui esercitare questa caccia e soffermandoci più dettagliatamente sulle peculiarità individuali che deve possedere il richiamo principale per questo tipo di caccia e cioè quello che è chiamato universalmente cimbello. Non vi è dubbio che il luogo per appostarsi vada scelto in seguito a molteplici ispezioni preventive esperite con la massima attenzione, vagliando sistematicamente le rotte di transito dei colombacci e cercando di individuare presuntivamente le loro preferenze alimentari del momento. Favorevoli a questo tipo di appostamento temporaneo sono gli ambiti confinanti con riserve di caccia o luoghi di ripopolamento e cattura, dove interi nuclei di colombacci possono insediarsi stabilmente senza alcun disturbo o pressione venatoria. Ad ogni buon conto, compatibilmente con l'annessione di ciascuno a precisi e circoscritti ambiti venatori, l'individuazione del sito di collocamento dell'appostamento temporaneo assume importanza primaria e dovrà essere focalizzato dai cacciatori in armonia con le diverse stagioni e di continui dislocamenti dei colombacci. Di primaria importanza assume anche l'identificazione, tra il team di richiami disponibili, dei cimbelli più idonei a svolgere un ruolo estremamente delicato. Le ragioni per cui si punta sulla docilità e la bravura del cimbello adibito a questo ruolo sono diverse. Prima fra tutte, l'estrema delicatezza del percorso che deve compiere il cimbello mentre viene sospinto per mezzo dell'asta verso l'alto. Deve stare appollaiato sulla racchetta con il pendulo cordino di trattenuta assicurato alle zampe attraverso le contorte frasche degli alberi. Nel corso della manovra con la quale lo si innalza fino a farlo emergere dalle cime affinché sia ben visibile anche da lontano dai colombacci in transito il cimbello deve rimanere assolutamente immobile sulla racchetta e ben fermo deve restarci soprattutto quando il cordino pendente venisse ad impigliarsi accidentalmente tra i rami ed il cacciatore dovesse, al fine di disincagliarlo, procurare movimenti laterali o lievemente rotatori alla punta dell'asta sulla quale è fissata la racchetta. Un cimbello che si agitasse o si scomponesse in simile frangente potrebbe procurare grandi problemi ai cacciatori impossibilitati a raggiungerlo a causa della scarsa portata dei rami prossimi alla racchetta ed impediti al disincaglio manuale di eventuali annodamenti. Una volta raggiunta la posizione di lavoro e fissata solidamente al suolo l'asta il cimbello dovrà eseguire le cimbellate a regola d'arte e senza alcuna esitazione e ciò per approdare dopo lo stacco in volo con rigorosa precisione sulla racchetta. Per assicurare maggiore solidità al tresporo sul quale agisce il cimbello la scelta per la confezione delle aste è sempre indirizzata su materiale rigido e indeformabile e tale da impedire oscillazioni laterali all'asta che potrebbero causare l'incaglio del cordino ai rami vicini. Facilmente mimetizzabile sul terreno in virtù della naturale copertura che fornisce la barriera delle piante sulle quali sono insati i cimbelli il capanno di terra di una tesa con le aste richiede minori attenzioni di quelli aerei o da campo e ciò perché l'attenzione dei colombacci in transito è prioritariamente rivolta all'aria prospicente ai cimbelli. Ma poiché con questa tecnica ci si propone di insidiare colombacci a quartierati la mimetizzazione del capanno di terra non va assolutamente trascurata e ciò soprattutto quando ci si pone l'obiettivo di assicurarsi la migliore visuale possibile per poter effettuare tiri dal basso verso l'alto ad uccelli che transitano velocemente apparendo sempre in maniera improvvisa tra frasche di piante ancora in foglie rendendo in tal modo assai aleatorio il tiro anche se estremamente avvincente. Della simulazione odierna possiamo apprezzare in particolar modo la perfetta mostrinatura dei cimbelli un macchillage eseguito dai nostri amici Riccardo e Vittorio con tale perizia da rendere irriconossibile il trucco anche agli acutissimi e diffidenti colombacci selvatici che hanno creduto ciecamente al ballo in maschera allestito dai nostri amici Livornesi. Grazie per la visione!